buongiorno vorrei mostrare l'unboxing del nano quadricottero cx 10c appena ricevuto acquistato in cina da ever buying questa è la confezione molto piccola non assomiglia a quelle che ho visto in altre recensioni questo la busta procediamo ad aprire la scatola contenuto della confezione questo è il manuale utente procediamo a disimballare i vari pezzi primo strato di plastica il mini quadricottero con la sua lente interrotto di accensione niente lato posteriore anzi niente qui c'è il si vede molto poco ecco qui c'è il buchetto per il led che indica lo stato della fotocamera e il la feritoia per l'inserimento della micro sd per la registrazione le eliche sotto la batteria ok appoggiamo qui altro strato di plastica e il telecomando con le sue levette devo dire abbastanza più solido di quello che mi aspettavo sotto c'è delle zigrinature non so se si vedono nella ripresa per un migliore grip questo telecomando o meglio radiocomando si alimenta con due batterie AAA mini stilo che non sono comprese quindi appoggiamo anche il radiocomando ultima parte sotto trattenuta da scotch ecco qui il carica batterie ecco il suo colmettorino e le eliche di ricambio vediamo il caricabatterie il caricabatterie è munito credo qui non lo so comunque dovrebbe essere munito di un led che dovrebbe accendersi durante la carica e spegnersi a carica completa ok questo è il contenuto della confezione alla prossima per il primo tentativo di volo ciao